Fratelli e sorelle nel Signore, oggi parliamo di Giuda. Perché diciamo che Giuda è andato in perdizione? Dove lo leggiamo nelle scritture questo? Che Giuda, secondo noi, non è stato salvato ma è andato in perdizione. Questa è una questione unita all'altra questione, cioè ma Giuda fu veramente un credente oppure no? Quindi questi due elementi oggi li andiamo a verificare attraverso le sacche scritture e risponderemo quindi a queste questioni. Perché è importante? Perché voglio presentare Giuda? Perché oggi nell'ambiente evangelico, ai giorni d'oggi, diciamo, si crede, molti credono nella salvezza. Tutti i credenti, no? Di tutte le denominazioni veri credenti credono che si ottiene la salvezza per mezzo della fede in Cristo Gesù. Si viene rigenerati e avviene il perdono e la purificazione dei peccati. Si diventa una nuova creatura e si diventa figlioli di Dio. E fino a qui è tutto va bene. Ma dove ci si discosta? Dove si discostano poi i vari gruppi evangelici? Perché la scrittura ci presenta anche il fatto che la salvezza, il credente che è rigenerato spiritualmente può perdere la salvezza. La può perdere. Perché così insegnano le scritture. Oggi noi ci limitiamo ad esaminare non tanto la perdita della salvezza con tutti i passaggi che sono scritti nella Bibbia ma oggi parleremo di Giuda. Ci concentriamo su Giuda. In un altro momento poi parleremo anche di tutti gli altri passi che indicano che la salvezza si può perdere. Oggi però ci concentriamo su Giuda. Giuda. Perché è aperta la questione, sempre aperta la questione di Giuda? Perché? Perché diciamo ci sono queste due questioni. Se Giuda è stato veramente un figliolo di Dio. È diventato o no figliolo di Dio? Perché se lo è diventato questo conferma che la salvezza si può perdere. Quindi o si dice, si crede, taluni credono che Giuda sì è andato in perdizione ma non è mai nato di nuovo, non è mai stato un credente. Altri invece cosa dicono? No, 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 Giuda era credente perché faceva parte dei dodici. Noi è stato scelto da Gesù insieme agli altri undici. Quindi non avendo Gesù scelto qualcuno che non era credente al ministerio di Apostolo, non è possibile perché la salvezza non si perde. Questi dicono, Costoro dicono, la salvezza non si può perdere. Quindi Giuda è stato veramente salvato. Cioè, Giuda era veramente un credente, però non è andato in perdizione. Capite? Quindi quelli che non credono che la salvezza si può perdere possono lavorare su due punti. Uno, possono definire Giuda che non è mai stato credente, quindi possono anche dire che è andato in perdizione. Due, la seconda, dice che Giuda era veramente credente e quindi, di conseguenza, non poteva perdere la salvezza. È stato salvato per forza. Anche se ha fatto quello che ha fatto. Oggi noi esaminiamo le scritture. Noi esaminiamo attentamente le scritture che riguarderanno Giuda e vediamo questi due punti importanti. Se Giuda era veramente un credente e se ha perso la salvezza. La salvezza che aveva ottenuto. E iniziamo subito. Iniziamo con la preghiera di Gesù nella elezione dei dodici apostoli. Andiamo a leggere quello che è scritto al capitolo 6 del Vangelo di Luca, al versetto 12. Dal versetto 12. Ora leggiamo queste parole. Or avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. e quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne lesse dodici ai quali dette anche il nome di apostoli. Simone che nominò anche Pietro Andrea fratello di lui e Giacomo e Giovanni e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Toma e Giacomo d'Alfeo e Simone chiamato Zelotta e Giuda di Giacomo e Giuda Iscariot che divenne poi traditore. Quindi vedete Gesù andò sul monte. Gesù aveva già iniziato a predicare l'Evangelo e aveva dei discepoli che lo seguivano. Ora, cosa fece Gesù? Gesù andò sul monte a pregare perché doveva sceglierne dodici come apostoli. Gesù andò sul monte pregò tutta la notte se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. Quindi Gesù passò tutta la notte a pregare Dio prima di scegliere i dodici apostoli. Poi quando si fece giorno Gesù andò ai suoi discepoli li chiamò chiamò i discepoli e ne scelse dodici in mezzo a quelli. Quindi Gesù aveva molti più che dodici discepoli. Discepoli i discepoli la scrittura quando dice discepoli li definisce credenti che avevano creduto in Cristo Gesù. Quindi li chiama i discepoli di Gesù. Quindi avevano creduto in Gesù e c'era un certo numero di discepoli. Tra questi discepoli ne furono scelti dodici da Gesù per essere chiamati apostoli. Furono chiamati apostoli da Gesù come abbiamo letto. Tra questi dodici c'era anche Giuda. Badate bene. Tra questi dodici c'era anche Giuda. Qui è scritto a posteriore naturalmente perché il Vangelo di Luca è stato scritto a posteriore cioè a cose già avvenute è stato scritto il Vangelo di Luca. Quindi c'è anche una specificazione nelle parole di Luca che dice quello che divenne poi traditore. Giuda Iscariot che divenne poi traditore. Però intanto quando Gesù li scelse Giuda era un discepolo alla pari di tutti gli altri. E non solo alla pari degli altri ma Giuda ricevette anche il ministerio l'ufficio gli diede un ufficio entrò a far parte dei dodici dei dodici che Gesù si scelse. Perché ne scelse dodici? Questo lo andiamo a leggere nel Vangelo di Marco nel Vangelo di Marco ai primi capitoli al capitolo al capitolo 3 al versetto 13 leggiamo leggiamo queste parole sempre sulla scelta sull'elezione dei dodici leggiamo come lo trascrive il fatto Marco poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quei che gli stesso volle ed essi andarono a lui e ne costituì dodici per tenerli con sé e per mandarli a predicare con la potestà di cacciare i demoni costituì dunque i dodici vedete la prima parte la parte che che noi volevo farvi notare è questa che quei dodici furono costituiti in mezzo agli altri discepoli qui dice Marco per per dare loro Gesù diede loro la potestà di cacciare i demoni ricevettero da Gesù la potestà di cacciare i demoni e come vediamo anche quando poi furono mandati a predicare vedremo poi che ricevettero anche la potestà di 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 guarire gli infermi quindi cacciare i demoni e guarire gli infermi quindi furono stabiliti questi dodici tra questi dodici c'era anche Giuda c'era anche Giuda ora consideriamo questo ma se Gesù è andato tutta la notte a pregare ha pregato tutta la notte per stabilire dodici discepoli Gesù era profeta Gesù è Dio quindi aveva tutta la possibilità per poter riconoscere aveva tutta quella quella il potere la potestà Gesù di riconoscere se una persona era un credente oppure no se era un vero discepolo oppure no quindi alla chiamata di Giuda noi dobbiamo credere per forza di cose o che Gesù non avesse discernimento spirituale quindi scelse Giuda che non aveva mai creduto oppure noi dobbiamo ritenere che Giuda era veramente credente credette e Gesù lo scelse poi quello che avvenne avvenne perché perché faceva parte del consiglio di Dio infatti era già stato scritto di Giuda che doveva tradire doveva tradire il Messia doveva tradire Gesù era scritto di lui però però dobbiamo considerare questo che Giuda era veramente credente era veramente discepolo perché aveva ricevuto il ministerio era stato scelto alla pari degli altri e aveva ricevuto anche lui la potestà di cacciare i demoni e di guarire gli infermi ora se non aveva in lui lo Spirito Santo perché i discepoli quelli che credevano in Gesù ricevevano una misura di spirito altrimenti non potevano essere credenti se lo Spirito Santo non era dentro di loro perché chi non ha lo Spirito di Cristo non è di lui quindi non solo non solo Giuda aveva lo Spirito ce l'avevano anche gli altri discepoli una misura di spirito la pienezza dello Spirito Santo ancora non era stata distribuita la promessa dello Spirito Santo non aveva ancora iniziato non era iniziata ancora la dispensazione della promessa del dono dello Spirito Santo quindi Giuda ricevette la chiamata da Gesù e Gesù siccome aveva discernimento spirituale egli era profeta e anche quindi ed era è anche Dio sicuramente aveva tutta quella possibilità tutta quel potenziale per poter riconoscere una persona che era credente oppure no infatti in alcuni punti della scrittura leggiamo che io so cosa avete quando Gesù gli diceva so cosa avete voi nei vostri cuori oppure in altri punti diceva Gesù la scrittura dice che Gesù sapeva cosa cosa pensavano come ragionavano cosa c'era nel loro cuore questo perché lo sapeva Gesù ma perché oltre che Dio era anche profeta quindi 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 sapeva quello che che c'era nei cuori degli uomini capite quindi la chiamata che Gesù fece a Giuda non la fece a caso nel senso che non era credente non l'ha riconosciuto e lo ha chiamato lo stesso no non è assolutamente così Gesù sapeva bene quando lo ha chiamato che era credente così come sapeva bene anche Gesù lo sapeva bene anche che sarebbe stato il suo traditore ma lo sapeva Gesù solo che si dovevano adempiere le scritture dovevano adempiersi le scritture di conseguenza Gesù ha operato in maniera che si adempissero anche quelle scritture che riguardavano il traditore che lo concerneva quindi Giuda fu chiamato quindi la sua elezione la sua elezione cioè la sua elezione nel senso che fu salvato da Dio fu salvato e gli credette credette perché doveva si dovevano adempiere le scritture quindi doveva essere chiamato a collaborare e a servire insieme agli altri a servire Cristo vicino per poi poterlo tradire perché le scritture dovevano adempiersi ora guardiamo anche quando Gesù mandò i dodici a predicare torniamo nel Vangelo di Luca al capitolo 9 leggiamo leggiamo alcuni passaggi che riguardano la missione dei dodici cioè che Gesù mandò a predicare i dodici i dodici che prima aveva eletto ora ora Gesù chiamati assieme i dodici diede loro potestà ed autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi e disse loro non prendete nulla per viaggio né bastone né sacca né pane né denaro e non abbiate tunica di ricambio e in qualunque casa sarete entrati in quella dimorate e da quella ripartite e quant'è a quelli che non vi riceveranno uscendo dalla loro città scotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro loro ed essi partitisi andavano attorno di villaggio in villaggio evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove vedete quindi Gesù chiamò prima scelse i dodici in mezzo ai suoi discepoli poi mandò questi dodici diede loro vedete cosa abbiamo letto abbiamo letto che diede loro è ripetuto ancora quindi diede loro potestà e autorità su tutti i demoni a chi a tutti i dodici ora Gesù chiamate assieme i dodici vedete quindi Giuda non era escluso e Giuda non poteva cacciare i demoni se non era un vero discepolo di Cristo alla pari degli altri un vero credente come gli altri e non poteva altrimenti dovremmo se noi accettiamo il fatto se dovessimo per ipotesi non è vero ma per ipotesi accettiamo il fatto che Giuda che Giuda non fosse credente quindi Gesù si sbagliò a sceglierlo come suo servitore come suo collaboratore stretto collaboratore se Giuda non aveva mai creduto come poteva andare in giro a guarire gli infermi e cacciare i demoni perché Gesù diede questa potestà a tutti i dodici la diede a tutti i dodici nessuno escluso di questi dodici la diede a tutti i dodici Giuda comprese quindi come faceva Giuda se non era credente a cacciare i demoni allora qui la scrittura siccome dice che la potestà è stata data ai dodici io devo credere a quello che è scritto è scritto che la potestà è stata data ai dodici ai dodici è stata data non c'è scritta ai dodici meno uno o c'è qualche elemento che esclude Giuda dall'aver ricevuto questa autorità no la scrittura insegna chiaramente che Giuda ricevette alla pari degli altri la stessa autorità la stessa potestà di cacciare i demoni e di guarire gli inferi e da questo noi dobbiamo comprendiamo che Giuda era un discepolo di Cristo ma veramente era un vero credente aveva creduto ora mandati i dodici a predicare quindi abbiamo letto i passaggi in cui anche Giuda fu mandato a un certo punto del ministerio di Gesù comincia a parlare anche del tradimento perché? perché fino a un certo punto Gesù ha operato poi ha cominciato a parlare della sua morte ha cominciato a preannunciare che gli scrivi e i farisei l'avrebbero messo a morte e tra le cose che riguardavano il futuro che lo concernevano e che perché si dovevano adempiere le scritture c'era anche il fatto che doveva essere tradito da colui che mangiava il pane insieme a lui e questo era appunto Giuda quindi si dovevano adempiere tutte le scritture che riguardavano il Messia che doveva morire soffrire molte cose e poi alla fine morire sulla croce e il terzo giorno anche risuscitare ora in tutte queste sofferenze in tutto questo piano che Dio aveva fatto riguardante Gesù era compreso anche Giuda anche l'opera che doveva compiere Giuda che doveva tradirlo anche quello faceva parte delle scritture era stato scritto di lui Gesù a un certo punto annunziando che doveva soffrire molte cose comincia a parlare anche di Giuda che avrebbe dovuto tradirlo questo lo leggiamo al capitolo 6 al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni quindi aprite le vostre Bibbie andate al Vangelo di Giovanni capitolo 6 dal versetto 66 stanno scritte queste parole da allora molti innanzitutto faccio una premessa qui che Gesù fece un discorso un discorso abbastanza duro che al versetto 59 vediamo la reazione di quelli che ascoltarono il discorso che fece Gesù quando Gesù fece il discorso e disse io chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna insomma fece questo discorso e alcuni dei suoi discepoli molti anzi dei suoi discepoli lo ritennero un discorso molto duro e questi discepoli infatti ragionarono in questa maniera vedete cosa c'è scritto al capitolo 6 versetto 60 onde molti dei suoi discepoli udite che lebbero dissero questo parlare è duro chi lo può ascoltare ma Gesù conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò disse loro questo vi scandalizza comunque questo ho citato questi passaggi per farvi capire che molti discepoli lo lasciarono a questo punto Gesù dice queste parole torniamo al versetto 66 da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui cioè i suoi discepoli siccome Gesù fece un discorso duro non andavano più con lui cioè avevano ritenuto che il suo discorso era molto duro e Gesù sapeva che per loro era un discorso duro Gesù lo sapeva ma lo ha fatto lo stesso questo per rispondere a coloro che dicono che il parlare che il nostro parlare deve essere dolce amorevole ma certamente che deve essere dolce amorevole ma talvolta dobbiamo e possiamo e dobbiamo anche cambiare tono verso la corruzione verso il peccato contro il peccato dobbiamo anche cambiare tono e prendere altri toni più aggressivi più più diciamo autoritari contro il peccato perché c'è un pericolo nel peccato c'è un pericolo delle anime si possono perdere e dopo non tornano più indietro capite quindi come dobbiamo esortare i santi a santificarsi a non lasciarsi andare al peccato a non lasciarsi ingannare da tante false dottrine non possiamo parlare bisbigliando e sussurrando dobbiamo a volte anche alzare la voce per sgridare per sgridare i fratelli che sono in una certa situazione di disordine ma per il loro bene non per il loro male cioè molti sopportano quei fratelli che predicano quelle persone non so se sono fratelli quelle persone che predicano dai pulpiti con parole dolcissime però gli rubano i soldi gli insegnano delle falsità gli fanno tanto del male li avvelenano quelli li sopportano a noi invece che magari a quelli invece che insegnano li sgridano li esortano li spingono in tutte le maniere possibili a parole naturalmente solo a parole li esortano a camminare sul sentiero della giustizia e della rettitudine e della verità ecco a questi invece invece no questi sono troppo duri questi sono troppo duri parlano troppo duro ma come e quello ti sta uccidendo parlando dolcemente e lo sopporti e noi che ti vogliamo il tuo bene che ti stiamo gridando guarda che la nave sta affondando guarda che tu affondi con tutta la nave stai attento che stai naufragando quanto alla fede stai attento fratello ah no invece no tu gridi troppo forte sei troppo duro allora non ti posso più ascoltare e così vanno le cose oggi stanno andando così purtroppo ma la verità dei fatti fratelli e sorelle è questa che non sopportano la verità e questa è la vera questione quello che dà fastidio non è il predicatore ma è quello che viene predicato non avendo altre scusanti ecco che dicono alza troppo la voce quello mi dà fastidio ma non è il fastidio del tono della voce il fastidio è nella verità che viene detta quando si sgrida qualcuno si esorta il peccatore a ravedersi a credere in tutta la parola di Dio è lì quando le tenebre vengono messe in luce quando le opere malvagie vengono messe sotto i riflettori della parola di Dio e lì allora la cosa diventa difficile cioè o ti ginocchi ti ravvedi e gridi a Dio che ti perdoni e accetti la verità o se no devi contrastare coloro che hanno ripreso coloro che ti hanno ripreso quindi così sta avvenendo ora chiudendo questa parentesi torniamo al nostro discorso che poi vedete è quello che poi è successo a Gesù e quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole quello che avviene oggi in qualche maniera è già avvenuto prima quindi rileggendo il passaggio da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui perciò Gesù disse ai dodici non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose Signore a chi ce ne andremmo noi? tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il santo di Dio Gesù rispose loro non ho io scelto voi dodici eppure un di voi è un diavolo or egli parlava di Giuda figliolo di Simone Iscariota perché era lui uno di quei dodici che lo doveva tradire vedete quindi guardate le parole di Pietro le parole in risposta a Gesù di Pietro furono queste noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto in queste parole c'è compreso anche Giuda cioè per Pietro anche Pietro quindi testimonia testimonia del fatto che Giuda aveva creduto alla pari di tutti gli altri perché se non avesse creduto se Pietro avesse avuto sentore che non aveva creduto non avrebbe potuto dire queste parole però le ha dette per lui e per gli altri perché badate bene prima c'è scritto c'è scritto Gesù disse ai dodici quindi sta parlando dei dodici perché gli altri se ne erano andati tutti lo avevano lasciato per il suo parlare duro erano rimasti solo i dodici vicino a Gesù e Gesù disse ai dodici volete andare via anche voi e Pietro rispose per sé e anche per i dodici e disse noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto quindi non solo hanno creduto ma lo hanno proprio conosciuto per quello che hanno vissuto vicino a Gesù hanno visto che Gesù era il Messia avevano conosciuto che era il Santo di Dio era il Santo che Dio aveva promesso al popolo di Israele che aveva promesso di mandare al popolo di Israele il Messia che aveva promesso lo avevano riconosciuto vedete quindi questi i dodici tutti i dodici avevano riconosciuto questo però Gesù qui preannuncia una cosa preannuncia comincia a preannunciare che comincia a preannunciare che Giuda lo avrebbe tradito che era un diavolo questo perché perché Gesù sapeva che si dovevano adempiere le scritture e Giuda rientrava in questo piano nel piano di Dio che nel piano che il Signore aveva stabilito che aveva stabilito di compie ora di Giuda adesso leggiamo in Matteo in Matteo cosa dice sempre Gesù di Giuda capitolo 26 e qui anche qui alla cena del Signore vedete l'ultima cena l'ultima Pasqua la Santa Cena chiamata la Santa Cena quando Gesù la notte che fu tradito e istituì la cena del Signore ha detto queste parole la scrittura dice queste parole capitolo 26 dal versetto 20 e quando fu sera si mise a tavola coi dodici coi dodici discepoli e mentre mangiavano disse in verità io vi dico uno di voi mi tradirà ed essi grandemente attristati cominciarono a dirgli ad uno ad uno sono io quello Signore? ma egli rispondendo disse colui che ha messo con me la mano nel piatto quello mi tradirà certo il figliolo dell'uomo se ne va come è scritto di lui ma guai a quell'uomo per cui il figliolo dell'uomo è tradito meglio sarebbe per cotestuomo se non fosse mai nato io voglio che voi vi concentriate su queste ultime parole meglio sarebbe per cotestuomo se non fosse mai nato ora se Giuda abbiamo detto abbiamo detto che Giuda era veramente un credente aveva ricevuto l'autorità e la potestà di cacciare i demoni e guarire gli infermi alla pari degli altri undici quindi noi lo riteniamo a tutti gli effetti un vero credente ora se questo credente come dicono taluni se un credente non può perdere la salvezza se un discepolo un vero discepolo di Cristo non può perdere la salvezza Gesù non avrebbe detto di Giuda queste parole non avrebbe detto meglio sarebbe per cotestuomo se non fosse mai nato perché ha detto queste parole Gesù ha detto queste parole perché sapeva la fine che Giuda avrebbe fatto che sarebbe stato scaraventato all'inferno lo sapeva Gesù perché se Giuda se Gesù sapeva che Giuda sarebbe stato comunque salvato non avrebbe detto queste parole Gesù perché Giuda sarebbe nato avrebbe compiuto il tradimento e poi sarebbe entrato lo stesso nel regno dei cieli e quindi nella pace e nella gioia del Signore nel regno dei cieli quindi non avrebbe Gesù se sapeva questo Gesù non avrebbe potuto dire queste parole meglio sarebbe per cotestuomo se non fosse mai nato c'era meglio che lui non fosse nato perché se è stato salvato non c'era nessun problema anche se ha compiuto quel peccato che ha compiuto quindi queste parole queste parole di Gesù fanno comprendere ci fanno capire che diciamo sarebbe stato meglio per Giuda non nascere mai quindi sicuramente questo ci fa anche intendere che la sua anima adesso dov'è? arde nel fuoco dell'inferno nel vero fuoco dell'inferno che non è attizzato da mano d'uomo ma bensì è attizzato da Dio quindi queste parole ci fanno comprendere ci fanno giungere anche a questa conclusione altrimenti Gesù non avrebbe potuto dirle se Gesù fosse adesso nei cieli non avrebbe potuto dire adesso vediamo sempre cosa è successo durante la cena del Signore però raccontata da Giovanni quindi dobbiamo andare nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13 dal versetto 21 sta scritto dette queste cose Gesù fu turbato nello spirito e così apertamente si espresse in verità in verità vi dico che uno di voi vi tradirà i discepoli si guardavano l'un l'altro stando in dubbio di chi parlasse or a tavola inclinato sul seno di Gesù stava uno dei discepoli quello che Gesù amava Simon Pietro quindi gli feccenno e gli disse di chi è quello del quale parla ed egli chinattosi così sul petto di Gesù gli domandò signore chi è Gesù rispose è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto e intinto un boccone lo prese e lo diede a Giuda figliolo di Simone Iscariot e allora dopo il boccone Satana entrò in lui per cui Gesù gli disse quel che fai fallo presto ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così di fatti alcuni pensavano siccome Giuda teneva la borsa che Gesù gli avesse detto compra quel che c'ha bisogno per la festa ovvero che desse qualcosa ai poveri egli dunque preso il boccone uscì subito ed era notte quindi vedete come racconta Giovanni questo fatto la notte che fu tradito la notte che istituì la cena del Signore Gesù svelò agli altri discepoli svelò agli undici che Giuda lo avrebbe tradito ma guardate cosa è scritto in un certo punto è scritto al versetto 27 quindi 13 27 è scritto e allora dopo il boccone Satana entrò in lui vedete quindi Satana entrò in Giuda cioè trovò in Giuda una porta aperta ed entrò in lui e quindi come poteva come poteva a quel punto a quel punto come possiamo noi ritenere che Giuda non fosse diventato veramente un figliolo del diavolo cioè è partito come un vero discepolo di Cristo ma lungo il cammino lungo il suo cammino è diventato un figliolo del diavolo capite un servitore del diavolo uno del quale il diavolo Satana si serviva si è servito per tradire il Messia infatti è entrato addirittura dentro di lui quindi gli ha spalancato le porte ecco perché diciamo che è figliolo del diavolo e Gesù tante volte lo ha dichiarato come figliolo del diavolo perché perché sapeva quale sarebbe stata la sua opera finale e dove sarebbe andato anche a finire qual è stata quindi diciamo quella notte Gesù uscì e poi andò al giardino del Gezzemani pregò pregò il padre e dopo venne Giuda guida come guida di quelli che lo dovevano arrestare e arrestarono Gesù lo tradì con un bacio ora andiamo a vedere la fine dopo averlo tradito poi Gesù morì ma naturalmente la coscienza di Giuda non rimase inoperosa la coscienza di Giuda anzi si faceva sentire fortemente in lui si faceva sentire che c'era qualcosa che non andava ora leggiamo leggiamo al Vangelo di Matteo al capitolo 27 la fine che fece Giuda le scritture ci fanno sapere anche la fine che fece Giuda e sta scritto leggiamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 27 poi venuta la mattina tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire considerate che il contesto di quello che stiamo leggendo adesso è che Gesù era stato già arrestato perché Giuda lo aveva tradito ed era stato arrestato e legatolo lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore allora Giuda che l'aveva tradito vedendo che Gesù era stato condannato si pentì e riportò i 30 cicli d'argento ai capi sacerdoti ed egli e dagli anziani dicendo ho peccato tradendo il sangue innocente ma essi dissero che ci importa pensaci tu ed egli lanciati i cicli nel tempio si allontanò e andò ad impiccarsi ma i capi sacerdoti presi quei cicli dissero non è lecito metterli nel tesoro delle offerte perché sono prezzo di sangue e tenuto consiglio comprarono con quel danaro il campo del vasaio da servire di sepoltura ai forestieri perciò quel campo fino al dì d'oggi è stato chiamato campo di sangue allora sadempì quel che fu detto dal profeta e presero i 30 cicli d'argento prezzo di colui che era stato messo a prezzo messo a prezzo dai figlioli di israele e li dettero per il campo del vasaio come me l'aveva ordinato il signore vedete dunque come avvenne avvenne che giuda comprese il male che aveva fatto lo comprese bene sicuramente la sua coscienza non rimase inoperosa dentro di lui ma lo faceva sentire male perse definitivamente quella comunione con dio fece un gran male agli occhi di dio tradì il messia tradì il signore il signore che lo aveva salvato e che fine ha fatto giuda giuda è andato ad impiccarsi giuda è andato ad impiccarsi quindi come voi sapete che è scritto che gli omicidi non entreranno nel regno dei cieli il suicida chi è? il suicida è colui che uccide uccide chi? se stesso non uccide altri il suicida uccide se stesso però sempre omicida è ora noi sappiamo che tutti i peccati sono perdonabili tranne il peccato che mena morte tranne la bestemmia contro lo spirito santo quindi l'omicidio è tra quei peccati che può essere perdonato può essere perdonato quando? quando uno lo confessa davanti a Dio confessa il proprio peccato chiede perdono a Dio con tutto il cuore sinceramente allora può il Dio può purificarlo e rimettergli anche questo peccato questo tipo di peccato grave che è quello di uccidere una persona quindi l'omicida può essere perdonato se si ravvede e chiede perdono a Dio ma il problema nel suicida sta appunto qui il suicida è un omicida di se stesso ma dopo non ha più il tempo avendo compiuto questo peccato avendo compiuto il peccato non ha più il tempo di ravvedersi perché se muore la sua anima poi va immediatamente a collocarsi come Dio vuole va a collocarsi o in cielo o nell'Hades o all'inferno ma il problema di Giuda è che si è suicidato quindi non ha avuto il tempo di ravvedersi di pentirsi e quindi anche il tempo di chiedere perdono si c'è scritto che Giuda si pentì però poi dopo andò a suicidarsi quindi che pentimento era si pentì perché stava male certo che si pentì però non chiese perdono e non c'era quel frutto degno di ravvedimento che doveva esserci anzi c'era c'era la malvagità che sprofondava sempre di più in lui un cuore il cuore ormai era diventato così malvagio considerate anche il fatto che che Satana Satana era entrato in lui quindi aveva trovato in lui una porta aperta cioè il suo cuore era proprio nelle mani di Satana e quindi e quindi Giuda vedete questo è un altro elemento da considerare per il fatto che Giuda perì Giuda non entrò nel regno dei cieli assolutamente non entrò perché tradì il maestro e non solo quello ma ma anche si suicidò si suicidò quindi oltre il fatto che era anche ladro era anche un ladro aveva tradito il maestro e si era anche suicidato e di tutto questo la scrittura non dice da nessuna parte che Giuda chiese perdono la scrittura non lo dice da nessuna parte quindi e poi il suicida come fa a chiedere perdono il suicida ecco perché il suicidio qualsiasi tipo di suicida credente o non credente non potrà mai entrare nel regno dei cieli perché nel momento in cui lui si suicida quindi compie questo delitto compie questo assassino di se stesso non ha più il tempo di ravvedersi non ha più il tempo di convertirsi non ha più il tempo di pentirsi e chiedere chiedere perdono a Dio di quello che ha fatto perché tutto finisce poi questa possibilità poi termina nel momento in cui uno muore quindi non ha più questa possibilità e questo è un altro elemento il suicidio di Giuda da considerare da considerare da tenere da conto per sapere qual è il luogo dove è stato diciamo gettato Giuda e sicuramente non è il regno dei cieli di Giuda di Giuda ne parla anche l'Apostolo Pietro adesso andiamo a leggere le parole di Pietro pronunciate al primo capitolo di Atti degli Apostoli capitolo 1 di Atti degli Apostoli dal versetto 15 e in quei giorni Pietro levatosi in mezzo ai fratelli il numero delle persone adunate saliva a circa 120 disse fratelli bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù poiché egli era annoverato tra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero e ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Akeldam cioè campo di sangue poiché è scritto nel libro dei salmi divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi abiti in essa e l'ufficio suo lo prenda un altro bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signor Gesù è andato e venuto fra noi a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli tolto da noi è stato assunto in cielo uno si è fatto testimone con noi della risurrezione di lui quindi anche Pietro vedete parla di Giuda parla di Giuda perché dovevano stabilire un altro un apostolo che lo sostituiva perché qui dice Pietro che Giuda era annoverato di Giuda dice Pietro era annoverato fra noi cioè faceva parte del numero degli apostoli era apostolo e aveva ricevuto vedete qualcosa l'aveva ricevuto che cosa aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio vedete quindi Giuda aveva ricevuto aveva ricevuto anche secondo quanto scrive l'apostolo Pietro aveva ricevuto quello che aveva le stesse cose che avevano ricevuto gli altri undici né più né meno solamente che come dice poi continua Pietro praticamente si dovevano adempiere le scritture per Giuda praticamente si dovevano adempiere determinate scritture eh sì come scritto nel libro dei salmi no? ma anche altre scritture si dovevano adempiere cioè il Dio aveva parlato e per portare a compimento le sue scritture egli ha dovuto ha operato in Giuda per compiere la sua volontà ad esempio un passaggio dei profeti che riguarda che riguarda Giuda è questo al capitolo undici del profeta Zaccaria leggiamo queste parole capitolo undici dal versetto dodici e io dissi loro se vi par bene datemi il mio salario se no lasciate stare ed essi mi pesarono il mio salario trenta cicli d'argento e l'Eterno mi disse gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo al quale mi hanno stimato e io presi trenta cicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio vedete queste sono le parole pronunciate dal profeta Zaccaria guardate bene cosa dice l'Eterno cosa dice l'Eterno e l'Eterno mi disse gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo al quale mi hanno stimato vedete l'Eterno sta dicendo che a lui lo hanno valutato al prezzo di trenta cicli d'argento vedete ed è proprio il prezzo a cui è stato valutato Gesù Cristo perché per aver tradito Gesù a Giuda gli sono stati dati trenta cicli d'argento vedete come quindi il Signore prima ha parlato e poi ha adempiuto le sue scritture quindi anche Giuda in tutto quello che lui ha fatto rientrava nei piani nei piani di Dio quindi Giuda prima è stato entrato quindi in questa maniera nei piani di Dio prima è stato iscritto nel libro nel libro della vita e poi ne è stato cancellato e sì come dice la scrittura no? infatti la scrittura dice che coloro che sono salvati sono iscritti nel libro della vita però dice anche dice anche in Apocalisse andiamo a leggere in Apocalisse ai primi capitoli di Apocalisse sta scritto chi vince nel capitolo 3 di Apocalisse versetto 5 chi vince sarà così vestito di vesti bianche e Dio non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del padre mio e nel cospetto dei suoi angeli vedete chi vince però chi vince tra quelli cui nome è scritto nel libro della vita chi vince cioè chi arriva sino alla fine chi arriva alla fine ad ottenere il premio rimanendo fermo nella fede sino alla fine santificandosi e tutto quello che ci è richiesto da Dio chi vince ottiene ottiene il premio ma chi invece perde va in perdizione appunto si perde chi perde chi si perde il suo nome qui sta parlando dei credenti quindi quelli che sono stati una volta scritti nel libro della vita chi si perde invece il suo nome sarà cancellato dal libro della vita il Dio la cancellazione dal libro della vita lo conferma anche a Mosè anche a Mosè il Dio ha confermato che avrebbe cancellato quelli che avrebbero peccato li avrebbe cancellati dal libro della vita quelli che non avrebbero vinto quelli che non sarebbero giunti quelli che non sarebbero giunti sino alla fine mantenendo ferma la fede che avevano all'inizio dobbiamo andare a leggere nel libro di Esodo adesso andiamo nel libro di Esodo al capitolo 32 dal versetto 30 praticamente il popolo di Israele il contesto è questo qui il popolo di Israele aveva peccato Mosè era sul monte a ricevere i comandamenti di Dio e tutti quei comandamenti e tutti quegli ordini per costruire l'arca il tempio e tutto il resto ora mentre passavano i giorni che Mosè riceveva da Dio i comandamenti il popolo si fece un vitello d'oro peccò contro le terre e peccò e Dio si adirò contro il popolo e molti morirono del popolo di Israele e Mosè intercede ha interceduto per il popolo ecco quindi la fase che leggeremo noi riguarda questo riguarda l'intercessione di Mosè per il popolo per il peccato del popolo quindi leggiamo al capitolo 32 dal versetto 30 l'indomani Mosè disse al popolo voi avete commesso un gran peccato ma ora io salirò all'eterno forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato Mosè dunque tornò all'eterno e disse ahimè questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un Dio d'oro non di meno perdona ora il loro peccato se no De cancellami dal tuo libro che hai scritto e l'eterno rispose a Mosè colui che ha peccato contro di me quello cancellerò dal mio libro vedete quindi Mosè anche Mosè sapeva che Dio aveva scritto un libro il libro della vita dove stavano scritti quelli che venivano salvati qui Mosè la mette in questa maniera la mette in questa maniera cioè o mi ascolti mi esaudisci o se no mi cancelli dal libro della vita così ha impostato la sua intercessione per il popolo Mosè ha impostato in questa maniera ma il Dio non era d'accordo con quello che aveva chiesto Mosè e l'eterno infatti rispose colui che ha peccato contro di me quello cancellerò dal mio libro capite è quello è quello che quelli che peccano possono essere cancellati dal libro della vita quelli che peccano badate bene e non ottengono più misericordia da Dio sì perché ci sono quelli che peccano e non ottengono più misericordia da Dio tra questi ci sono quelli che peccano contro lo che bestemmiano contro lo Spirito Santo tra questi ci sono quelli che commettono il peccato che mena morte che è rinnegare Cristo quelli che rinnegano Cristo e anche quelli che bestemmiano contro lo Spirito Santo i credenti che bestemmiano vengono cancellati dal libro della vita vengono cancellati e per loro non c'è più misericordia non c'è più misericordia per loro si viene cancellati quindi vedete comunque sia un piano e Dio ce l'ha sia nel caso che uno è iscritto nel libro della vita e sia nel caso in cui poi viene cancellato come è avvenuto a Giuda quindi quando qualcuno qualche credente si svia si allontana e si perde va in perdizione e Dio aveva un disegno anche per lui in questa maniera come prendendo ad esempio Giuda prendendo ad esempio Giuda e questo vale anche per tutti gli altri quindi per quale motivo noi se la scrittura lo afferma se la scrittura lo dice chiaramente che la salvezza la grazia può essere persa per quale motivo noi dovremo ignorare questi passaggi biblici no noi dobbiamo predicare questi come anche gli altri tutti gli altri che troviamo scritti nella parola ma ora noi non è che dobbiamo concentrarci sul fatto che la salvezza si può anche perdere nel senso che ah io non so se io sarò tra quelli che perdono la salvezza non è a questo che dobbiamo pensare non è questo su cui dobbiamo concentrarci noi ci dobbiamo concentrare sul fatto di rendere ferma la nostra vocazione la nostra elezione perché noi intanto siamo stati eletti questo è il punto certo e preciso il futuro noi cerchiamo di vincere noi dobbiamo essere tra quelli che vogliono vincere che vogliono arrivare sino alla fine quindi noi ci esortiamo gli uni gli altri alla santificazione allo studio della parola alla perseveranza alla perseveranza nella preghiera va bene noi non pensiamo al fatto che la salvezza non ci fissiamo non ci concentriamo sul fatto che la salvezza la possiamo anche perdere perché la Bibbia lo insegna si può anche ma noi dobbiamo guardare ad ogni giorno guardiamo ad oggi noi riconosciamo che siamo nati di nuovo e siamo in Cristo lo riconosciamo in noi stessi ognuno esaminando se stesso lo riconosce ognuno di noi che è nato di nuovo e allora vai avanti vai avanti guardando a Cristo vai avanti sapendo che devi perseverare nella preghiera perseverare nello studio della parola di Dio perseverare nelle buone opere perseverare nella fede perseverare nella crescita perseverare guardando a se stessi per vedere se stiamo crescendo ogni tanto guardiamo indietro quello che eravamo no siamo cresciuti o no lo riconosciamo questo che siamo cresciuti o no spiritualmente riconosciamo in noi stessi che sentiamo la presenza di Dio che siamo in comunione con Dio bene continuiamo continuiamo c'è qualcuno fra noi che si sente di aver peccato non si sente a posto con Dio e si inginocchi non lasci passare i giorni si deve inginocchiare davanti a Dio e chiedere perdono e chiedere la purificazione dei suoi peccati perché tranne il peccato che mena morte e la bestemmia contro lo Spirito Santo tutti gli altri il Signore li perdona bisogna solo inginocchiarsi e confessare i propri peccati a Dio nel nome di Gesù Cristo e il sangue del suo figliolo ci purifica da ogni peccato per rientrare riappacificarsi con Dio riconciliarci con Dio se abbiamo peccato bisogna riconciliarsi con Dio bisogna ritornare a avere pace con Dio e sentire la comunione con lo Spirito Santo e a questo che dobbiamo su questo dobbiamo concentrarci però non si possono ignorare tutti gli altri passi che sono comunque scritti non li possiamo ignorare perché noi dobbiamo considerare tutta la parola di Dio quello che ci muove è l'esortazione che la scrittura ci dice di perseverare nella fede sino alla fede nelle buone opere nella preghiera nello studio della parola però non dobbiamo dimenticare che ci sono anche i passaggi biblici che ci dicono che la salvezza si può perdere e c'è anche questo c'è anche questo affinché questo cosa serve serve affinché non ci adagiamo troppo nel divano capite affinché non ci adagiamo troppo nella spiaggia affinché non facciamo un fosso in quella spiaggia nudi lì e in tanti altri posti che il credente non deve frequentare non si deve proprio affacciare capite se no va a finire se noi non crediamo se uno non crede che la salvezza si può perdere va a finire va a finire che fa qualsiasi cosa tanto cosa succederà non succede niente capite e questo non va bene e questo non va bene perché le scritture ci dicono che le cose non stanno così ci dicono che noi dobbiamo stare attenti dobbiamo perseverare anche nelle buone opere perché le buone opere a cosa servono cosa fanno vedere le buone opere non è che sono le buone opere che ci salvano ma le buone opere sono la manifestazione della fede quindi se ci sono si abbondano le buone opere noi sicuramente abbiamo anche la fede perché se se uno non prega faccio un esempio se uno prega il Dio vuol dire che ci crede in Dio capite? e quella è un'opera quella è la giustizia dell'uomo come è scritto in Matteo 6 fa parte delle opere che l'uomo deve compiere quella è manifestazione di fede in Dio se uno digiuna e prega il Dio vuol dire che ha fede in Dio se uno fa l'elemosina vuol dire che ama il suo prossimo capite? quindi conosce che uno dei comandamenti che deve osservare è quello di amare il suo prossimo quindi aiuti il tuo prossimo e quindi stai avendo fiducia in quello che Dio ha scritto nella sua parola vedete sempre quindi le opere cosa sono? sono la manifestazione della fede ecco perché si parla di opere se non ci sono se non ci sono opere significa che non c'è neanche la fede capite? se uno non è attaccato alla parola di Dio vuol dire che non ha fiducia non crede che questa sia parola di Dio capite? molti sono distaccati dalla parola di Dio ma per quale motivo? il motivo è che non credono che la Bibbia sia parola di Dio ecco credono che sia un libro così con qualche consiglio capite? qualcuno bravo ha scritto quelle parole però se le vuoi seguire le segui se no fai come ti pare no quella non è fede in Dio la Bibbia i 66 libri della Bibbia sono parola di Dio capite? la somma della parola è verità quindi e noi ci dobbiamo credere quindi vedete come anche le opere sono importanti? sono importanti perché io e dalle opere uno può dirmi può venire a noi e ci dice io ho una fede grandissima e fammi vedere le tue opere fammi vedere come vivi la tua giornata fammi vedere quello che fai quello che dici la tua sapienza la tua intelligenza la tua conoscenza della parola fammi tastare se quello che mi stai dicendo è vero oppure no magari sulla fede lo dicono di meno lo dicono di più che loro hanno amore no? loro hanno tanta carità tanto amore siamo noi quelli quelli che siccome sgridiamo il peccatore siamo noi che non abbiamo amore va bene e loro ne hanno tanta però al lato pratico fammi vedere questo tuo amore con quale opere mi mostri il tuo amore dove sono queste opere e non ce ne sono e allora e allora non c'è neanche carità non c'è neanche carità perché ci vuole fatica cioè per amare i fratelli c'è fatica bisogna faticare sopportare avere pazienza non è facile avere vero amore amore per i fratelli soffrire con loro gioire quando il fratello gioisce anche nell'amore ci sono delle opere che si vedono quando uno ama il fratello come si vede anche quando non lo ama purtroppo e su questo siamo mancanti tutti quanti siamo mancanti e chiediamo a Dio che ci fortifichi e ci faccia abbondare nella carità quindi fratelli questo era il messaggio oggi a che volevo rivolgervi per farvi comprendere per farvi comprendere ricordandovi che Giuda è l'esempio di uno di quelli che è stato eletto scelto da Gesù va bene è stato scelto prima come discepolo è stato scelto come apostolo ha ricevuto quello che ha ricevuto l'autorità e la potestà di cacciare i demoni e guarire gli infermi è stato mandato a predicare poi a un certo punto a un certo punto si è allontanato Satana è entrato in lui e ha compiuto quelle opere di cui era scritto cioè di lui era scritto e le ha compiute le ha compiute le ha compiute le ha portate a compimento perché? perché la scrittura la parola di Dio si doveva adempiere doveva adempiersi dovevano adempiersi le scritture si dovevano adempiersi e si sono adempiute anche su Giuda poi Giuda si pentì ma poi si andò a suicidare quindi il suo pentimento non è servito a nulla perché al pentimento ci deve essere la confessione del peccato l'abbandono del peccato possibilmente e i frutti degni del ravvedimento tutto questo non si è visto in Giuda quindi siamo portati che la fine di Giuda è stata quindi quella di essere gettato gettato all'inferno perché si è suicidato attenzione perché oggi si sta discutendo molto anche del suicidio e quindi stati attenti anche a questo argomento perché il suicidio il suicida non entra nel regno dei cieli perché dopo averlo compiuto questo peccato non ha più possibilità di chiedere di confessare il peccato a Dio e di aspettare la remissione di questo peccato quindi che siano credenti o non credenti il suicida va a finire all'inferno quindi non fatevi ingannare fratelli e sorelle da quelli che dicono che il credente suicida entra nel regno dei cieli no assolutamente non è in questa maniera e questa era diciamo quello che avevo il cuore di trasmettervi in questa sera a Dio sia la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén grazie a tutti